Buonasera a tutti, è appena finito il Consiglio Comunale il 30 agosto del 2017 e dopo la parte istituzionale, quindi le comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco e anche del Segretario Generale, si è passato alle interrogazioni, interpellanze varie e conseguentemente anche da parte nostra, del nostro gruppo consigliare, alla presentazione di due ordini del giorno che indicano un po' anche il nostro percorso che abbiamo condiviso un po' anche durante gli incontri che abbiamo portato a questo punto per quanto riguarda il programma elettorale, quindi per quanto riguarda lo sport e soprattutto anche il decoro urbano. In questo caso quindi l'adesione, il primo ordine del giorno presentato dal Consigliere Del Nero è l'adesione da parte del Comune, quindi come ente al portale e alla piattaforma del Corro Urbano.org il secondo invece è un'adesione per quanto riguarda lo sport alla carta etica dello sport proposta quindi dalla Regione Toscana e che, indietro il Consigliere Guerra, magari a essere come ha fatto durante il Consiglio Sì, brevemente la carta etica dello sport è proposta dalla Regione Toscana la quale chiede il ricepimento da parte dei comuni della carta etica e poi la sua conoscenza da quello che è il mondo delle associazioni sportive. Lo sport è inteso come aggregazione, divertimento, in tutte le sue sfaccettature positive. A questo proposito noi abbiamo chiesto quindi di aderire al nostro Comune intendendo poi necessario che l'adesione di sito del Comune attraverso la posizione del logo della carta etica dello sport e l'impegno anche poi a promulgarla nelle associazioni sportive del territorio perché in effetti queste avrebbero una condizione positiva data dal fatto che quando la Regione Toscana emette dei bandi che sono a favore dello sport, normalmente le società sportive che hanno aderito alla carta etica dello sport salgono, diciamo, nelle graduatorie. Così come anche quando la Torre Regione Toscana fa dei bandi in concomitanza col coni, normalmente sono bandi che riguardano invece la possibilità per le famiglie di poter far aderire i propri figli a corsi sportivi anche se si trovano in condizioni di scarsa di sua rivedita economica.